Anzi, l'intelligenza di avere anche creato opportunità ai vari soggetti, Camera di Commercio, agricoltori, cooperative, alleanze cooperative, le amministrazioni comunali e i tre sindacati a Solombarda. Non facciamo cadere questo appuntamento. Questo è un appuntamento a mio avviso importantissimo perché avete degli stakeholder davanti che credono nel futuro della città metropolitana. E siccome sappiamo che poi nella politica l'indomani rischiamo di essere fatto un compleanno, ecco questo compleanno secondo me è l'opportunità per rilanciare al Paese, alla politica nazionale che qua siamo pronti per un nuovo futuro.